Allora, ciao a tutti Niente, giro subito quest'altro video Perché Vi devo far vedere un prodottino Che devo già avervi recensito in qualche video Ma Diciamo Credo che sia in video vecchissimi Perché vi voglio parlare di Questo prodotto qua Adesso se riesco Sì qua è scritto al contrario Lo vedete al contrario Comunque è della bioacqua E sono Ve le vado ad aprire Adesso ne ho preso un botto assieme Delle lunette Da mettere così nell'occhio Imbevute con Dei fiori Adesso poi se trovo di nuovo il link Ve lo vado a mettere qui sotto Allora Io ce l'avevo lì da un sacco di tempo Non le avevo ancora provate E siccome la sera mi metto sempre O qua O comunque due o tre volte a settimana Le lunette sotto gli occhi Ho voluto provarle E oh sono una bomba Non le avevo ancora provate Le ho provate A me faccio un sacco Vabbè io le ho adattate al mio occhio Quindi Nella parte interna Io con le forbici ho togliato via un pezzettino E le ho messe così Non sono andata proprio nell'angolo Le ho tenute una ventina di minuti E quando le ho tolte Sentivo tutto bello Sentivo tutto bello Aperto Teso Non pensavo Cioè quelle che metto qua sotto Mi fanno sentire l'occhio più fresco Ma non mi danno Questa idea Di Lifting Di botox Tirata Invece quando ho messo questo Sentivo la pelle bella tirata Non un tirare fastidioso È proprio bella tonica E difatti le metterò anche stasera Penso che le metterò tutti i giorni Fino ad esaurimento E poi le ricomprerò di nuovo No mi ci sono trovata veramente bene Secondo me All'Express chiaramente Vi metto il link Provatele E poi fatemi sapere com'è andata Ci andrà un po' di tempo prima che arrivino Ma secondo me queste meritano Io le ho provate Sono contenta Molto probabilmente le comprerò Anzi no molto probabilmente Sicuramente le comprerò di nuovo Ciao Buone